Scarface o digitali remastered, altra storia. Ah per quello era la più bella per i due. Loaded with explosive bonus material. Raga Scarface, come posso chiamare? Un cult, un cult americano, del sogno americano, ma anche del... No. Fatti Van Gogh, dai, finito che ci siamo. Ah no, è Privelli. Sei minorenne probabilmente. Devi scegliere B qua. Salve, salve, salve. Beh, non si poteva parlare col barman, è brutta. Ah, bravo, vedi. Vabbè, minchia, la conversazione è più su. Oh, vai. Ah, vai, ti ho dato il permesso. Raga. Oh, porco seo. Non li fai sparare? Eh no, non puoi, non puoi. Non puoi, non puoi, non puoi, non puoi, non puoi. Ah, quindi? Completamente male. Ah si. Porco tu è. Pappa tu è. Eh però, risale tutto qua. Tutto qua. No wife Puffy. Tua moglie, tutta tua moglie, titana. Eh, non puoi mai sapere chi è mio figlio. Eh, chi ti chiamai un piccolo, ragazzi? Scusa, ma abbiamo aspirato un po' di quella polvere un po' particolare, prezioso. Eh, insomma, si può riaprire, no? L'aspirapolvere per... Ma c'è anche una rummella davanti? Puoi anche cambiare macchina. Ruba, ruba una skin grey. Quella è detonata, ragazzi. Oh! Zucco! E quindi i pali venivano via. Vabbè, questo qua già ha fatto lo swing. Attenzione! No, no, no! Stelle! Stelle della polizia. Eh beh, di credo. Stelle della polizia. Vabbè, ma almeno lutta lì, c'è. Almeno vai in aeroporto, piglia in aereo e fatti un giro. Ma dov'è il palazzo della piazza? Era più indietro. Boh! Boh! No, è qui l'ingresso. Torna indietro. Parcheggio nella risca di pesce. Coraggio. Ma tanto ha già sterminato mezza metropoli. Parcheggio nella risca di pesce. Ah, vabbè, qua. Perfetto. Di pure! Non c'è il divieto. Che burino, madonna! Ma no, raga, sto fermando tutti! Al Pacino era norvegese. Ma poi dove sta nannà questa? Ah, dentro lo stadio di andare. No, qua è il... Qua sono i negozietti. No, scusate. Ah, giusto, giusto, giusto. Vai giusto. Sì. Faccio il giro fuori. Faccio il giro fuori. Ah, qua, qua. Guarda. Emilio Scobar! Che aspetta! Io sopra! Io so il Pablo Emilio Scobar Caviria. Eccolo, Caviria, che aspetta. E' presente il meme. In questo paese rifarvi prima i soldi. Aspetta, sì. Oh, shit. Jamiro Quay! M'altro che è, Lucio. Jamiro Quay! Questo ci fa smerzmercià la... l'erba, bro. Invece no. Dobbiamo farci sozza. Sosa. Peccato che è in inglese. Poco intrattenente. All'lucky. Eh, devi mettere i sottotitoli. Eh, sì. Lo tolto io prima. Però in inglese non sono il massimo. Carina. Capito? Bu. Ruba, dai, ruba la panda, per favore. Bella. Bella. No, questa è la 1. Lampototoria, tra l'altro. Per forza. Hai parcheggiato di merda. Cioè, pensavo in paese civile. La c'è una ferma, per favore. Ma no, hai bloccato il traffico. Non era qua. C'è una ferma, la. Prendi quella, per favore. Sono tutte lancia delta, come si chiama. Erano tutte, erano tutte cosine. Oh, quella lì. Allora, lei, io credo che sia una... Signora che sta lavorando! Ma scusa! Ma che ne sai? Non ho fatto un po'. No, raga, il feeling è completamente diverso rispetto all'altra macchina. Sì? Ah, sì? Però volete... Non ho guidato l'altra. No, ve lo giuro, raga! Hai guidato solo tu? Vi giuro che... No, ho un'altra! Oh, scusa! Allora, allora... Ma non li fan, se non è che... E' lì, occhio! E' lì, dietro, dietro! Chi? Dietro! Che devo picchiare? No, 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 no. Non c'è più questa inglese. No, ha girato! Ha girato e sparita, perché rispauna tutto sta roba, hai capito? Lo fai morire, effettivamente. No, vai la X gialla, che... Questo è mio zio, raga. No, perché? E' un po' lo sbagliato. Ciao, ragazzi! Sono zero per cari! Ciao, ciao! Cioè, avete capito? La filosofia dietro al piar gelato, no? Cioè, io sono una persona umile, umilissima, talmente umile che penso di essere più umile del mondo, cioè. E nessuno mi capisce. No, questo qua dovevi per forza metterlo sotto. Nessuno mi capisce mai. Mi fierisce! Vai per favore su quelle scale là in fondo, scendendo dall'automobile dove ti dice la X sulla mappa! Dove? Tu non ti ricordi in valle come funziona, cioè. Finché non sei sotto casa, non è che sei dalla macchina, cioè. Ma allora ragazzi, allora, se state... No, non dirglielo, non dirglielo! Ma io sono casa, adesso. Io questo momento il mio cervello è completamente disconnesso. Ma c'eri, eh? Ma fino a un secondo qua eri proprio arrivata. Le piante non riuscite voi! Vai a Rosso, la Rosso. Sono in Australia, siamo. Sono finiti in Cina nel frattempo. Bello, guardate le parabole! Scusate. Raga, mi diverto, mi diverto, guardate qua. Ma sì, ti diverti con un enduro, non con la Stingrego. Invece. Ma siamo in minera! In cava! Bella la cava! Bella la cava! Guarda qua quanto era arcade sta cosa! Si va giù, si va giù! No, fra questa parte è veramente divertente. Faccio un saltino e te la do. Ok? Fa come vola qua! Siiii! Oh, ora sono soddisfatto! Di fianco al camion! È un'ottima performance la tua, ma non ha nulla a che vedere con la mia. L'hai rotta! L'hai rotta! E scendi! Sei matto! Ti ho salvato la vita! Ti ho salvato la vita! Non l'avevo visto. Non capire come andarcene. Si, quasi salti di sotto, non so se ci danno la caduta. Sei buono, ma certo che c'è. Allora, di là no? Di qua! Di là! No, di là poi torni indietro! Vedi se faccio business map! Non trova! Fica! No, era un camaleonte! No, no, ma è strabico davvero, mi sa, è proprio strabico forte! Practice deal! È per quello che si è social al pacino! Esatto! Avevamo visto il character design! Sono io! Sono fatto così! Questo è strano eh! Questo vuole la droga, bro! Guarda come è preso male! Si, cavoli! Si gratta tutto! Dammi la droga! Practice deal! Ah! È un minigioco! Avoid fail zone! All then release when the matter is full! Bam! Eh! Ma bro! Una, adesso ne fa altre! 3! Eh sì, mille! Ma le abbiamo fatte a 6, è pochissimo! Ma la 4 ci perdiamo, ci andiamo sotto! Ma è pochissimo! Va bene lo stesso! 10.000! Ma è pochissimo! A 0,6! Eh! 0,6! Vaga mi so, cioè non so di cosa sta parlando! Fede, io farei business! Non combiniamo sulle acque! Guarda un attimo business! Invece! Guarda qua! Eccezionale! Guarda, vado pure sott'acqua Tomb Raider! No! No! Eh! Incazzato nero pure per nuotare! Non ci avevi fare una minchia questo! No bullets non stop us, now we need a bed or we won't bow! Neither can be bought now or so! We all have friends and rights, at our children must tonight Life is worth much more than gold! Chi i mi... Vai spingi qualcuno in acqua, sempre per goliardia, per divertimento. Signora, vai, ecco la scevola in pala Oh, ragazzi, finalmente un po' di scevola in pala Guarda come si guida bene È preciso, raga, non è mai così preciso Oh, Clem Il Jeep devi provare, bro, il jeepino L'altra leva Power light, bellissimo il power light Guarda che ti swingo in mezzo alle auto, guarda Vai Guarda le mani Guarda le mani Guarda le mani Contro l'apertone La signora che... Oh no, bella quella Quante balle abbiamo preso? 20 ballozze te l'ho preso Grazie, minchia Guarda cosa vuol dire, ti prego un toro Un toro, bro L'hai presi per le palle 1210 palle ho preso Eh, abbiamo guadagnato 1.2 Minchia, abbiamo fatto su 6k per guadagnarne 1.000 Eh, ci sta In basso di livello è così Raga, va bene ragazzi Il primo livello di Scarface è stato complicato Le andate Parte la serie Ragazzi ci becchiamo ogni mattina che mi trovo su Twitch Ciao belli Grazie Grazie